La banda del buco colpisce ancora, ed ancora una volta per rubare dentro il deposito di una tabaccheria. Nella notte scorsa, passando attraverso il foro praticato nella parete di un magazzino adiacente, una banda di malviventi ha svuotato il deposito della tabaccheria a cartoleria del centro commerciale del Vallato. È la terza volta che i titolari subiscono questa traumatica esperienza. Mesi fa, sempre ignoti, rompendo la porta di ferro, si erano introdotti nel deposito sottostante l'attività, portando via, anche in quel caso, diverse migliaia di euro di merce, cratta e vinci e sigarette per lo più. Questa volta hanno deciso di passare da un'altra strada. Una volta divelta la sala cinesca di una ditta adiacente specializzata in riparazioni di attrezzature dentali, sono scesi nel deposito magazzino ed individuata la parete confinante, l'hanno forata, creandosi un passaggio, e da lì portato via tutto quello che il deposito del tabaccaio conteneva, comprese le gomme da masticare, oltre al carico di sigarette, ma escludendo così la porta di ferro che era monitorizzata da un antifurto fumogeno. Ad accorgersi del furto questa mattina i titolari della tabaccheria, l'apertura del negozio, molta rabbia e tanto scoramento nei loro volti. Preferiscono non parlare né di cifre né di come stanno vivendo questi momenti, tanta è l'amarezza per quanto accaduto, ma a occhio e croce il danno subito non è inferiore ai 15.000 euro. Ci sentiamo sotto attacco, siamo nel mirino di questi delinquenti, ci dice al telefono Lorenzo Paolini, referente di zona dell'Associazione Nazionale di Categoria. Nessuno ci tutela e le forze dell'ordine fanno quello che possono, anzi, alle volte ci colpevolizzano perché non abbiamo i sistemi adeguati di protezione, ma con gli scarsi ricarichi che abbiamo, non tutti i nostri associati possono dotarsi di antifurti moderni, videosorveglianza collegata con le forze dell'ordine e quant'altro. Ci sentiamo abbandonati a noi stessi, continua Paolini, nessuno fa niente, per noi la politica ci ignora, ma noi continuiamo a subire, occorre fare qualcosa e presto.